Facciamo tanti auguri alla CIA, buon Natale e buon anno a tutti i dipendenti, Presidente e a tutti quanti. Un augurio di buone feste e anche un augurio per il 2014 che voglio rivolgere innanzitutto ai nostri iscritti, a tutti i nostri iscritti, agli agricoltori italiani, alle loro famiglie, ai nostri collaboratori, io amo dire alle 2500 persone che tutti i giorni in Italia aprono la porta di un ufficio e si mettono a servizio degli iscritti, a servizio degli agricoltori, a servizio della società. Buon Natale a tutti! Auguri e buon anno a tutti quanti! Buon Natale! Tanti auguri a tutti gli agricoltori italiani per tanta felicità e successo a loro e alle loro famiglie. Buon Natale e buon anno a tutti quanti! Buona festa e anche voi! Auguri ovviamente a tutti, a quelle sono le risorse, i grandi valori della Confederazione che sono i nostri associati e sono tutti coloro che ci lavorano, sono le risorse umane in generale che sono l'orgoglio della Confederazione. Auguri di buone feste! Soprattutto ai bambini! Beh, un augurio alla democrazia in Italia e nel mondo! Fatti auguri! Un augurio obiettivo a tutti i colleghi della Confederazione, al nostro Presidente! Un augurio di cuore! Tanti, tanti, tanti auguri! A tutti gli associati della CIA, a tutti i miei colleghi agricoltori e contestualmente a tutte quelle persone che lavorano all'interno del sistema e che sono il nostro supporto fondamentale nella vita di tutti i giorni delle nostre aziende. Beh, un augurio alle persone che mi vogliono bene! Auguri a tutti i soci e i dipendenti della Confederazione degli Agricoltori! Tanti auguri a tutti! Buone feste a tutti, con tanta simpatia! Tanti auguri di buon anno e buon Natale a tutti i nostri associati agricoltori, pensionati, giovani e donne! No, o auguri o buone feste! Dicidete! Tanti auguri! Tanti auguri! Tanti auguri! Auguri a tutti! Auguroni! Tanti cari auguri a tutti quanti voi! A tutti i miei ipotini e alla mia famiglia! Buone feste a tutti i pensionati! In avanti con l'età hanno sperato qualcosa di meglio! Auguro che va a tutti! Tutti quelli che nel mondo stanno facendo qualche cosa per uscire fuori da questa grande crisi! Per un anno sicuramente migliore e più sereno! Grazie, auguri a tutti voi! Auguro a tutti! Buon Natale! Soprattutto ai nostri colleghi del territorio! A tutti i giovani che possano trovare un posto di lavoro, compresa mia figlia! Un augurio di un bel 2014! Agli agricoltori e agli operatori turistici! E buon Natale! Buon proseguimento a tutti! Tantissimi auguri a tutti i miei colleghi! Della sede centrale e anche del territorio! E anche all'estero perché noi abbiamo anche delle sedi all'estero! Principalmente a noi della Confederazione degli Anagricoltori! A tutti i colleghi dell'Inac, più complessivamente a tutti i colleghi del sistema CIA! Auguri soprattutto alle famiglie italiane! Con l'augurio insomma che entrino anche tanti soldi! Volentieri ho un augurio di buon anno e buon Natale a tutti i colleghi! Tanti auguri a tutti! Auguro a tutti le persone che fanno parte del sistema CIA di passare delle buone feste! Ma gli auguri a tutti quanti i colleghi che sono sul territorio! Che lavorano tutti i giorni in front office, con le aziende, ad ascoltare l'amentele, le preoccupazioni! Buon Natale a tutti quanti! Volevo augurare a tutti i colleghi della Confederazione delle serene festività! Tanti auguri alla mia famiglia! Beh a me! Auguri di buon Natale a tutti! Ma non si fa! Non si fa! Ti spiego che cos'è! Tanti auguri di buon Natale! A tutti e le giovani e i giovani agricoltori d'Italia! No, spesso! Tanti auguri a tutti i colleghi della CIA! Le prossime feste, il prossimo anno, siano migliori di quello che abbiamo vissuto quest'anno! Bertelli! Speranza ne abbiamo! Non so che dirvi, veramente! Queste cose non mi... Auguri a tutti i colleghi di tutto il territorio! No, spero! A tutti i colleghi del territorio auguro un buon Natale e buone feste! Tanti auguri a tutti i miei colleghi di lavoro sicuramente! Alla Confederazione e all'agricoltura tutta! Spero che lo tagli! No, no, lui non maschera niente! I miei più affettuosi auguri di un felice Natale! A tutte le colleghe, ai colleghi! Un augurio speciale a tutti i colleghi della Confederazione Italiana Agricoltori! Tantissimi auguri a tutti i colleghi del territorio! Mi scuso per il make-up, in genere sono molto più bello! Cioè se vuoi sentire come sto chiacciato! Tanta salute e tanti soldi per tutti! Auguri veramente di cuore da parte di Gianfranco! Sia un Natale di giocondità e di giochi! Auguri a Maria Francesca Daniela e ai miei genitori e a mia sorella Silvia, grazie! Io mi auguro che il 2014 sia l'avvio di qualcosa di diverso, che i diritti che sempre di più vengono a mancare vengano riconosciuti. Mi auguro che ci sia veramente un'inversione di tendenza, che chi deve fare delle scelte assuma, diciamo, delle responsabilità e incomincia a dare delle risposte. Tutti dobbiamo contribuire per cercare, come dire, di essere un'Italia bella, un'Italia diversa, un'Italia più giusta e all'interno veramente un'agricoltura capace, come dire, di continuare a produrre ricchezza dando e riconoscendo agli agricoltori un giusto reddito.